la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News andiamo subito a vedere quali sono i principali articoli pubblicati sui quotidiani questa mattina giovedì 3 novembre si parla di Caro Energia si parla delle mosse delle iniziative che il governo Meloni vuole mettere in atto per ridurre il costo sulle famiglie vediamo il titolo per il mattino nazionale Caro Energia il piano Italia oggi la prima missione della premier Meloni a Bruxelles 10 miliardi per alleggerire le bollette il governo punta a sganciare il prezzo del gas dall'elettricità intesa con l'Unione Europea o faremo da soli e poi ancora la polemica sulla norma per contro i rave party fratelli d'Italia apre a modifiche la premier non si nega il dissenso rave party fratelli d'Italia apre a modifiche Meloni fiera del decreto la premier spiega stop ai rave integrali illegali scusate ma non tocchiamo il diritto a manifestare sul tavolo l'idea di alzare la soglia del 50 partecipanti Salvini spinge per mantenere la linea dura mollicone di fratelli d'Italia questa norma si può applicare anche ai palazzi pubblici e privati occupati a Roma e poi ancora il vertice con le regioni per quanto riguarda l'autonomia Calderoli accelera scuole del sud risorse a rischio andiamo di fondo l'analisi il pacifismo dei nuovi indifferenti mentre di spalla il mattino meno 4 la battaglia contro le fake news viviamo nella società digitale immersi in una comunicazione completamente diversa da quella alla quale eravamo abituati tutto accade online in diretta non esiste più il tempo della riflessione e andiamo a centropagina dagli esteri Israele il ritorno dell'infinito Bibi il Likud di Netanyahu vince le elezioni con l'ultradestra per quanto riguarda invece il covid e la sanità in Campania medici e infermieri Novax lontani dai pazienti la direttiva di De Luca nessun contatto con i malati e la Puglia sfide il governo noi non li reintegriamo e poi il caso giustizia Napoli Nord 25 mila processi da smaltire in basso il viaggio in Baren il papa del dialogo e poi il ricordo Ghirelli e l'intelligenza del recupero nei box sotto il titolo di testata invece si parla di sport in particolare di Napoli le quotazioni azzurre il Napoli di Europa è diventato gigante ora vale 600 milioni e poi troviamo l'intervista a Ferrara so che Diego è sempre con noi sì al museo in città questa è la prima pagina del mattino nazionale vediamo invece i titoli per la prima pagina del mattino di Salerno il caso di Fisciano vediamo parla il papà della bimba che ha lanciato la bimba dal balcone vediamo l'ho lanciata me l'ha detto Dio queste le prime parole dell'uomo bimba giù dalla finestra la confessione del padre e gli avvocati un delirio psicotico l'uomo resta in carcere i giudici minorili decideranno a chi affidare la piccola e poi il commento crimini il nome di divinità o demoni quando il mandante è una voce la viabilità causa al cimitero assedio abusivi record di multe 55 in tre giorni andiamo di fondo la scuola un milione in più per i riscaldamenti la provincia costretta a variare il bilancio caro energia nelle scuole si prospettano inverno freddo con cappotti e maglioni in classe le bollette salate erano attese e alla fine sono arrivate per consumi di energia elettrica e per sopperire alle spese di consumi idrici nelle scuole la provincia approva la variazione di bilancio di 1.170.000 euro e poi l'ordinanza il caro energia spegne nocera lampioni inattivi nelle ore notturne a centro pagina la sanità il medico Novax si ribella terrorismo contro di noi a Vallone ho pensato di lasciare la professione ora fateci lavorare De Luca chi è senza dose non abbia contatti con i pazienti il lutto addio al penalista Mario Iannulardo scoprì la falla nell'app Immuni nella fotonotizia il calcio con la Salernitana stadio nuovo sito e social Salernitana già nel futuro si svuota intanto l'infermeria più opzioni per Nicola la Salernitana lavora a sodo anche fuori dal campo e guarda il futuro tecnico strutturale e tecnologico tra la gestione della sosta nuovo sito web e passi avanti per Arecchi e centro sportivo intanto dopo aver perso Ghiomber Nicola recupera Lovato e Maggiore problemi di abbondanza in vista del match contro la Cremonese andiamo in basso il femminicidio di Ponte Cagnano chiuso il cerchio su R Anna Borsa il PM chiede il processo per l'ex Nelle fotonotizie la sicurezza Torrione sfascia i vetri e staccheggia le auto e poi per la criminalità furti da Positano a furore presi i ladri di Motorini questa è la prima pagina del mattino di Salerno andiamo avanti le cronache invece apre occupandosi soprattutto del caso dei medici Novax con la decisione della regione Campania vediamo il rientro dei medici Novax troppa ignoranza e disinformazione queste le parole del dottor Torre di Pagani proprio su questo argomento per la reintegrazione dei medici in servizio vediamo la storia del dottor Torre scelse di non vaccinarsi e visitò a domicilio i pazienti malati di covid voglio un incontro pubblico con Bassetti la sua posizione è inaccettabile De Luca Attacca dovranno stare lontano dai pazienti e poi la polemica alberi pericolanti al cimitero per Natella la colpa è del predecessore in alto nei box verso le provinciali il PD presente Alfieri si rivede Maraio ancora con il centrosinistra e invece per il governo ieri il giuramento di viceministri e sottosegretari tra questi anche Edmondo Cirielli che ha giurato davanti alla premier Giorgia Meloni Cirielli ha giurato da viceministro altra giornata storica per Fratelli d'Italia di Salerno domani avrà le deleghe andiamo al centro pagina Sica sofferenza psichica di lunga data prima non parla poi un fiume in piena resta in carcere Zarrillo perito della difesa Giuseppe Dauria confessa ho lanciato mia figlia me l'ha detto la voce di Dio andiamo invece di spalla scusate di fondo la storia Gerardo Ricciardi presenta la nuova band salernitana Five Hub e poi la commovente cerimonia a Pagani in ricordo dell'eroe Marco Pittoni per le altre notizie caos all'asile di Salerno la Cisla attiva lo stato di agitazione chiama il prefetto e poi l'intervento la giustizia economica di Nordio ha una visione primitiva e sacrale della funzione del giudice chiudiamo la prima pagina del quotidiano le crona che torniamo ora sul mattino nazionale parliamo del caro energia dopo il giuramento come abbiamo visto di sottosegretari e viceministri la premier Meloni ora è alle prese con il vertice a cui parteciperà a Bruxelles vediamo l'emergenza economica Meloni al debutto dell'Unione con l'Unione Europea per il caro Bollette fino a 10 miliardi oggi gli incontri a Bruxelles con Mezzola Wunderlein e Miguel la premier governo a testa alta non devo restare a tutti i costi una a Bruxelles semi vuota per le festività d'inizio novembre attende oggi pomeriggio con lo fiato sospeso l'arrivo di Giorgia Meloni prima donna premier della storia italiana fa qui il suo debutto all'estero la leader di Fratelli d'Italia con tre incontri in successione la Presidente dell'Europarlamento Roberta Mezzola la numero uno della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen e in serata il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michael che segnano il battesimo del Presidente del Consiglio con le istituzioni europee in un confronto schietto alla pari e andiamo avanti e ieri il Presidente del Consiglio colloqui telefonici con gli omologhi di Spagna Polonia e Giappone focus su energia e Ucraina Tajani annuncia domani in Consiglio dei Ministri un segnale chiaro per affrontare la crisi andiamo in basso Calderoli accelera sulle autonomie a rischio e le risorse per la scuola al sud il Ministro incontra i Presidenti delle Regioni e entro un anno potrebbe essere approvata la legge quadro il trasferimento di competenze cruciali come l'istruzione può ridurre i finanziamenti nei territori più poveri e chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre per quanto riguarda le iniziative del Governo lo abbiamo visto in particolare la Premier e il nuovo Governo si stanno occupando proprio dell'emergenza caro energia vediamo prezzi energetici calmerati l'Italia pronta a fare da sola il Governo punta al disaccoppiamento europeo del prezzo di gas ed elettricità se l'Unione Europea non si muove sarà valutato un intervento autonomo per le famiglie l'idea è di ampliare il decreto Energy Release con cui già si tutelano le imprese energivore e vediamo una parte dell'articolo per Giorgia Meloni oggi a Bruxelles non è altro che un punto di partenza per il primo viaggio all'estero della Presidente del Consiglio del resto l'obiettivo formale è instaurare un dialogo franco e rispettoso con l'Unione Europea non si tratterà però solo di una stretta di mano una foto di circostanza la Premier è infatti convinta di dover iniziare col piede giusto e quindi senza alzare inutilmente i toni oggi chiarirà ai tre vertici dell'Unione Europea che a usare le parole scelte nel suo discorso per la fiducia alla Camera questo governo porterà in Europa la propria identità come valore aggiunto un primissimo assaggio arriverà proprio nei faccia a faccia separati che terrà con i Presidenti dell'Europarlamento della Commissione dell'Unione Europea e del Consiglio Europeo quando Meloni ne approfitterà per chiedere risposte sul fronte dell'emergenza energetica non è però il momento di cercare lo scontro spiega uno dei suoi fedelissimi anzi si cercherà piuttosto di cancellare l'immagine mediatica della leader di Fratelli d'Italia e dei conservatori europei sempre pronta a scontrarsi con Bruxelles e poi andiamo in basso COP27 l'affondo di Roma sull'ambiente vanno sostenuti gas, carbone e benzina mossa del governo al Summit Globale sui cambiamenti climatici che inizia domenica in Egitto Meloni preoccupata delle conseguenze provocate dal caro energia rompe i ranghi dell'Unione Europea e chiudiamo anche questa pagina andiamo avanti parliamo ora invece di Covid parliamo delle misure adottate dalla regione Campania dopo l'emanazione del governo del decreto del governo che reintegrava i medici Novax arriva invece la puntualizzazione dalla regione Campania che dispone comunque che i medici Novax come abbiamo visto non siano a contatto con i pazienti vediamo il caso Campania sanitari non vaccinati lontani dagli ammalati direttiva del presidente della regione in partita manager di Asle e ospedali torneranno in corsia solo poche decine di lavoratori i reparti restano in affanno medici di base specialisti privati guardie mediche convenzionate con le Asle operanti in cliniche convenzionate con il servizio sanitario regionale odontoiatrico studio autonomi inoltre medici infermieri operatori impiegati nell'RSA in alcune cliniche specializzate nella diagnostica senza obbligo di degenza per gli assistiti insomma in Campania la stragrande platea dei medici Novax non lavora negli ospedali pubblici meno dello 0,3% degli iscritti precise il presidente dell'ordine dei medici di Napoli che da ieri ha firmato i provvedimenti di cancellazione della sospensione dal servizio per i camici bianchi non vaccinati queste sono le leggi nazionali e noi le applichiamo ma dalla regione prosegue la linea dura peraltro già annunciata dal governatore il quale non più tardi di 48 ore fa aveva bollato come gravissima e rispettosa dei medici e dei pazienti la norma varata dal governo e andiamo avanti medici di base pensionati e specialisti nel settore privato ecco chi sono i 1.400 senza protezione chiudiamo anche questa pagina ora la cronaca parliamo del caso di Fisciano con l'uomo che ha lanciato dalla finestra la bimba vediamo me lo ha chiesto Dio lui l'avrebbe salvata il papà confessa al GIP restancella l'uomo che ha lanciato la figlia di due anni dalla finestra in un video della sorveglianza tutta la scena e le voci dei protagonisti una chiamata al 112 qualche giorno prima del drama per segnalare un pacco bomba contro la figlia la procura chiede al santo bono di trattenere la bimba in attesa di decisioni del tribunale dei minori per quanto riguarda l'affidamento della piccola e poi ancora la cronaca andiamo in basso lo uccide con una freccia faceva chiasso sotto casa mi ha minacciato di morte a Genova infastidito dalle urla di due uomini ha imbracciato uno dei suoi archi e ha scoccato un dardo uccidendo un uomo di 41 anni durante la notte del 2 novembre la lite tra due peruviani appena usciti da un bar e un artigiano il genovese avrebbe chiesto di abbassare il tono della voce e dopo ha scagliato un dardo verso uno dei due amici l'uomo è poi sceso nel vicolo e ha tentato di togliere la freccia dal fianco del ferito ma si è spezzata e lasciamo anche questa pagina di cronaca ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo restate con noi bentornati con la seconda parte della nostra rassegna stampa vediamo quali sono i principali articoli che interessano la provincia di Salerno in apertura andiamo sul mattino di Salerno in primo piano c'è l'intervista al dottor Avallone che interviene proprio sulla decisione della regione Campania di impedire ancora insomma l'avvicinamento dei medici Novax ai pazienti in contrasto quindi con quanto deciso invece in un certo senso in parte in contrasto con quanto deciso dal governo per la reintegrazione al lavoro dei medici Novax vediamo la sanità lo scontro il medico non vaccinato basta con il terrorismo ora lasciateci lavorare Avallone sanitario di base sapete che anche chi è immunizzato può contagiare chi dice che il siero funziona davvero io ho salvato un ragazzo curandolo a casa questa è la storia di Avallone quando ero sospeso ho pensato di lasciare la mia professione intanto De Luca ordina di evitare contatti tra pazienti e Novax non sono contrario alla vaccinazione ma lasciateci lavorare le parole con cui inizia l'articolo dedicato al tema insomma Novax le forme di trasmissione non cambiano tra sanitari vaccinati e non vaccinati a spiegare la ragione della scelta di non sottoporsi all'inoculazione del siero anti-covid Amedeo Avallone medico di famiglia sospeso perché non in regola con l'obbligo vaccinale che dal primo novembre può ritornare nel suo ambulatorio a visitare i pazienti dopo il provvedimento di reintegro del governo Meloni negli ultimi giorni anche nel Salernitano la decisione del ministro Schillaci ha suscitato molte polemiche tra i camici bianchi con il presidente dell'ordine Giovanni D'Angelo quello dei medici di base Elio Giusto il segretario di categoria fermamente contrari al provvedimento non capisco perché i medici non vaccinati non dovrebbero tornare al lavoro dal momento che c'è stata una narrazione non certa chiede Avallone i medici che non si sono vaccinati alla fine sono quelli che hanno ragionato un po' con la testa perché dovrei farmi un vaccino quando coloro che lo producono dicono di non averlo testato per niente perché avrei dovuto buttare una cosa in corpo così vi sembra una mancanza di rispetto a me sembra invece che gli altri non hanno ragionato abbastanza e vogliono prendersela con quelli che lo hanno fatto questa parte dell'articolo pubblicato oggi sul mattino andiamo avanti in basso per la scuola provincia un milione in più per i riscaldamenti in classe il caro energia costringe l'ente ad una variazione di bilancio ora la spesa prevista è 2 milioni e mezzo stando a quanto si apprende dalla provincia ente gestore di 140 scuole superiori del Salernitano solo per il consumo di energia elettrica arriva a un rincaro della bolletta di 600 mila euro questo si traduce in un ammanco rispetto al bilancio previsionale che è legato inequivocabilmente al rincaro dei prezzi per i consumi energetici abbiamo una spesa extra di oltre mezzo milione di euro per il consumo nelle scuole di energie elettriche speriamo che si fermi qui e chiudiamo anche questa pagina andiamo avanti sempre sul mattino di Salerno vediamo le notizie che provengono dalla Piana del Sele dai Picentini dal Cilento e dal Vallo di Diano in apertura si parla del caso dell'omicidio di Anna Borsa vediamo chiuso il cerchio su R il PM chiede il processo contestate anche le aggravanti antipersecutori e premeditazione tra le imputazioni l'attentata uccisione del fidanzato della trentenne a Capaccio Pestum nasce in azione con sequestri e sanzioni mentre a Bellizzi perquisizione dopo la bomba e caccia all'uomo una delle persone indicate dal bersaglio dell'attentato esplosivo che ha sporciato la notte di Halloween avrebbe un alibi e soprattutto non sarebbero stati trovati nella casa dove vive elementi probatori che lo colleghino ai fatti avvenuti nella notte tra lunedì e martedì e quanto emerge dalle prime attività di indagine che i militari della compagnia di Battipaglia stanno portando avanti dal momento dell'esplosione che ha terrorizzato la centralissima via Maroncelli a due passi da Piazza Europa e da Via Roma nel cuore del più giovane dei 158 comuni della provincia di Salerno e andiamo poi a Eboli l'automobile pirata semina il panico investe quattro ragazzine una è rimasta ferita ragazzine investite da un'auto pirata è accaduto in pieno centro in via Amendola lunedì sera un'automobile grigia con targa straniere sopraggiunta a velocità sostenuta ed ha investito le ragazzine mentre attraversavano la strada ad avere la peggio una minorenne che nella caduta ha riportato ferite al braccio mentre le altre tre ragazze sono state urtate dal veicolo ma fortunatamente non sono rimaste ferite ad Atena Lucano il consorzio sotto accusa nomini e bandi dubbi mentre per le notizie di Spalla Pisciotta Via della Frana ok lavori 14 milioni per sistemarla è a Capaccio Pesto ma fuoco rifiuti pericolosi scattano sigilli e denunce gestione lecita di rifiuti alcuni dei quali dati alle fiamme scattano le denunce l'episodio accaduto in località l'inora l'attività di indagine è stata affidata alla polizia giudiziaria della stazione carabinieri forestale di Agropoli insieme al personale dell'ufficio circondariale marittimo di Agropoli i militari hanno denunciato alla procura della Repubblica di Salerno i titolari di una società e due dipendenti di origine straniera e chiudiamo le pagine del mattino di Salerno vediamo invece i titoli per le cronache alcuni degli articoli pubblicati sulle cronache anche sulle cronache troviamo l'intervista ad un medico a Gerardo Torre il medico di Pagani che aveva curato i pazienti da casa vediamo che anche il dottor Torre interviene sulla decisione del governo di reintegrare i medici Novax e anche sulla posizione invece della regione che vuole impedire che impedisce invece ai medici non vaccinati di avvicinarsi ai pazienti vediamo le parole di Torre bene rientro dei medici Novax oggi troppa disinformazione e ignoranza Gerardo Torre medico Paganese alla ribalta nazionale per la sua posizione contro i colleghi in piena pandemia il dottore ha scelto di non vaccinarsi visitando a domicilio i pazienti positivi chiede un incontro pubblico con Bassetti posizione sua inaccettabile è un fiume in pieno il dottor Gerardo Torre medico Paganese alla ribalta nazionale per la sua posizione atipica per molti nei confronti del covid e dei vaccini il dottor Torre lavora a Pagani ed è stato censurato dall'ordine perché ha criticato i colleghi che non visitano a domicilio non ha mai nascosto la sua decisione di non vaccinarsi e oggi plaude alla decisione del governo nazionale di far reintegrare al lavoro i cosiddetti medici Novax bene il rientro dei colleghi sospesi che probabilmente hanno determinato una valutazione sul rapporto vaccinale ma bisognerebbe immaginare anche un'altra realtà il 90% di questi colleghi è stata quella parte di medici che ha scelto di visitare i propri pazienti colgo ha dichiarato il dottor Torre colgo l'occasione per rispondere a Bassetti a Matteo Bassetti direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale di Genova e lo invito ad un incontro pubblico perché sta distruggendo la nostra vita queste le parole di Gerardo Torre andiamo in basso l'ordinanza De Luca braccio di ferro con il governo i medici non vaccinati lontani dai pazienti saranno messe in campo le necessarie azioni dirette a contrastare ogni ipotesi di contagio a tutela dei degenti questa invece è la posizione della regione Campania chiudiamo questa pagina andiamo avanti parliamo ora delle prossime elezioni provinciali per la scelta del nuovo presidente vediamo che la sinistra il centro-sinistra presenta il suo candidato Franco Alfieri vediamo elezioni di secondo livello con annunci in pompa magna il ritorno dei big grande assente Enzo Luciano segretario provinciale DEM che avrà sicuramente impegni istituzionali si rivede Enzo Maraio pronto a sostenere ancora il centro-sinistra presente stianese per paura di perdere i voti dell'agro dopo il suo defenestramento e poi ancora di spalla Piero De Luca autonomia no a fughe in avanti mentre in basso il governo nazionale Edmondo Cirielli giura da viceministro altra giornata storica per Fratelli d'Italia la squadra della presidente Giorgia Meloni ormai al completo e si lavora si è conclusa ieri mattina a Palazzo Chigi la presenza della premier Giorgia Meloni dei vice Antonio Tajani e Matteo Salvini la cerimonia di giuramento dei sottosegretari del governo Meloni e poi troviamo la lista completa tra cui vice ministro per gli affari esteri Edmondo Cirielli e chiudiamo anche questa pagina andiamo avanti sempre per quanto riguarda le notizie pubblicate sul quotidiano Lecrona che si parla del caso di Fisciano della bambina lanciata dalla finestra dal padre perché ora si pensa al dopo ricovero la bimba al momento è ricoverata al Santo Buono di Napoli ma ci si chiede a chi sarà affidata quando sarà dimessa vediamo il titolo infatti su queste pagine di primo piano di Lecrona che preoccupa il futuro della piccola Elena andrà con i nonni questo punto interrogativo la bambina potrebbe andare a casa dei nonni con la mamma Michela e ancora al Santo Buono al momento acquisite le immagini di una telecamera privata che avrebbe ripreso tutto la piccola potrebbe essere dimessa già oggi ma si attende la destinazione scelta quello che preoccupa ora nella vicenda di Fisciano è il destino della piccola Elena figlia del reo confesso Giuseppe Dauri e della moglie Michela attualmente ancora sotto osservazione al Santo Buono di Napoli in compagnia della madre che non l'ha mai lasciata dopo il tragico episodio di domenica scorsa in basso ci spostiamo in costiera amalfitana amalfi nuovi interventi di riqualificazione saranno realizzati nel cimitero monumentale saranno realizzate 54 nuove cellette all'interno di una struttura d'archi rivestita con pietre a vista e chiudiamo questa pagina ancora le crone che andiamo vediamo le notizie per la provincia di Salerno la parte più a sud andiamo a Vibonati vediamo rifiuti arrivano gli stipendi arretrati questo è il titolo il sindaco Manuel Borrelli noi in regola con i pagamenti abbiamo sollecitato la ditta che gestisce la raccolta la FIT CISL continueremo a monitorare la situazione sollecitata la ditta nei giorni scorsi era stata molto forte la polemica dell'organizzazione sindacale contro il sindaco e andiamo in alto Capaccio Pesso marie private sottoposte a sequestro i rifiuti venivano dati impunemente alle fiamme l'attività dei carabinieri forestali evidenziato la presenza di rifiuti pericolosi abbandonati in zona in basso invece Agropoli al via importanti attesi lavori di riqualificazione mutali passi si tratta di interventi a cui teniamo e che ci stanno a cuore posa della prima pietra per via Pisacane e con questa pagina chiudiamo la nostra segna stampa vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG alle ore 13.45 alle ore 19.45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito